Come leggere il risultato del quarto voto e ora secondo lei qual è la strada che auspicate? Avevamo detto già nei giorni scorsi che era sbagliatissimo la candidatura di Romano Prodi. Non vorremmo che nelle prossime ore emergesse un'altra candidatura sbagliata che è quella di Amato. In realtà il candidato c'era fin dall'inizio Marini, ha preso già al primo turno 521 preferenze e se Bersani avesse tenuto questa linea oggi avremmo il Presidente della Repubblica e avremmo il Presidente della Repubblica soprattutto votato dall'intero centrodestra e centrosinistra.